Ma sì, oggi qui a Petrignano è andata in scena una bella festa dello sport, ciclocross a go-go. Abbiamo fatto lo short track per i giovanissimi G1 e G5, anzi anche i promozionali mini-biker. Poi siamo partiti con le gare dai più anziani che hanno fatto 40 minuti, poi è andato in scena lo show di Samuele Scappini, come dicevi tu, Cristian, quest'anno lo sta consacrando. È un atleta fortissimo, under 23, 19 anni, la nostra speranza del ciclismo regionale Umbro. Il ciclocross è la specialità che gli si addice di più, l'ho visto volare sul fango di Petrignano. Questa mattina, quando lui è partito ancora il terreno, era abbastanza viscido e bagnato. Adesso si è asciugato per la gara Lieve e la gara G6, però veramente Samuele sta facendo una stagione fantastica e stabilmente tra i primi tre, under, elite, insomma, avete visto quello che sta combinando al nord delle gare internazionali. Quindi sia stato un lustro per noi averlo ospite qui. Dopo che il corso ieri sera a Lido di Jesolo si è precipitato qui da noi, gli piace talmente tanto il percorso e ci onora la sua presenza.